Figlia mia, l'argomento di cui ti parlerò sarà particolarmente gradito al tuo cuore, come lo è al mio. Ti parlerò della carità che lega la grande famiglia di Dio, la famiglia dei Santi, di coloro che vivono in grazia, per cui ciò che fanno, torna a beneficio di tutti gli altri. È questo il meraviglioso dogma della comunione dei Santi. Ti ricordo che per questa comunione tu non sei unita solamente a tutti gli uomini della terra, di qualunque paese o religione siano, ma anche con i Santi del Cielo e con le anime del Purgatorio. Da questa comunione deriva un aiuto vicendevole, fatto di preghiere e di meriti, che supera ogni pensiero umano. È come uno scambio di doni meravigliosi, che le anime si fanno per mezzo mio, sotto lo sguardo del Padre, spinti dal soffio animatore dello Spirito Santo. Guai se non vi fosse questo scambio di doni, per cui chi ha di più può dare a chi non possiede, può pagare per un altro i debiti alla Divina Giustizia. Tutto passa per le mie mani e viene da me avvalorato con il mio sangue e con i miei meriti. La mia mamma è come la celeste tesoriera, che mettendo nella cassa comune il cumulo dei meriti, ne fa parte ai figli. Così fanno e hanno fatto migliaia e migliaia di Santi, che avendo vissuto una vita nell'innocenza e nella penitenza, possono tuttora distribuire ai poveri della Chiesa di Dio i meriti che sopravanzano. Questa meravigliosa comunione non unisce solo i Santi del Cielo alle anime della Terra, ma anche unisce fra di loro le anime della Terra, per cui tu puoi aiutare persone lontane, sconosciute, malate, puoi aiutare i Vescovi, i Sacerdoti, puoi sostenerli nel loro lavoro di apostolato e partecipare ai loro meriti. Puoi aiutare i missionari e divenire tu pure missionaria, pur restando nella tua casa. Tu preghi, tu soffri, tu lavori per essi. Che ti importa che il tuo nome sia sconosciuto a essi? È il Padre che vede e che retribuisce dando a ciascuno un premio e dei meriti. Vi sono malati che soffrono nella disperazione. Li vuoi aiutare? Tu lo puoi. Offri per essi le tue pene giornaliere. Pazienta nelle croci che devi sopportare. Sii generosa. Soffri per essi che sono colpiti dalla malattia. Forse più grave e dolorosa della tua, e tu sarai a loro di aiuto. Entrerà in loro la pace anche nel dolore. Il Padre accetta. Gradisce e benedice questo altruismo. Questo dono ai fratelli e ne rende merito a chi lo fa. Voi dite molti proverbi che ricordano l'utilità di questi doni reciproci ed è bene che tu li tenga presenti. Il proverbio è come un granello di sapienza che tiene viva nella mente una verità. Ricorda, per esempio. Chi prega per gli altri, tesoreggia per sé. La carità esce dalla finestra ed entra dalla porta. È vero che è più perfetto l'agire per amore senza pensare alla ricompensa. Ma Dio è infinitamente giusto e ripaga con sovrabbondanza ciò che si fa per i suoi figli. Anche se per il bene fatto per puro amore, la ricompensa sarà maggiore. Ti ho parlato in altre lezioni delle anime del purgatorio e della loro opera salvifica a favore dei viventi. Esse non possono pregare per sé, ma con amore pensano e pregano per voi. La comunione dei santi le raggiunge ed esse hanno conforto e sollievo mentre ricambiano il dono con generosità. Fai molto bene, perciò, quando fai dono ad esse di tutti i tuoi meriti e delle tue preghiere e sta pur certa che questo atto eroico di carità, che ti priva di tutto per queste anime, sarà ripagato in modo veramente meraviglioso. Esse ti saranno accanto nel cammino della vita, così da salvarti da tanti pericoli e proteggerti da essi. Saranno queste anime le tue buone compagne su cui potrai contare in ogni tua necessità. Non sei dunque sola al mondo. Come tu non devi vivere egoisticamente per te stessa, ma pensare a tutti gli altri. Così sta certa che c'è tutto un mondo, che con Dio veglia su di te e ti aiuta. Apri il cuore a grande gioia e speranza. Apri il cuore all'amore e dona e ricevi il tuo contributo dalla grande famiglia dei Santi di Dio.